Ci sono storie di volontariato che percorrono sentieri inconsueti, sembra alle volte che la loro direzione vada in senso contrario. Ne è un esempio la storia di Suor Giacinta che dall'Africa ha deciso di venire in Italia per aiutare i siciliani in difficoltà. Presta servizio nel quartiere Brancaccio di Palermo dove vive. Lo fa ormai da un anno al centro padrenostro voluto dal beato padre Pino Puglisi. Aiuta gli anziani ma non solo perché si occupa anche di recupero scolastico per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi delle superiori. All'inizio gli abitanti del quartiere non mi davano confidenza, racconta. Ora invece sono molto accoglienti, si confidano sui loro figli per avere da me un consiglio e un sostegno. Il Signore mi dà la forza per andare avanti ogni giorno anche senza conoscerlo questi ragazzi. Mi metto avanti a loro, fare quello che è possibile. Facciamo dei compiti, cominciamo a fare dei compiti, così ci aiutiamo loro per crescere, per capire le cose, per rimanere indietro. Si accende un sorriso in Suor Giacinta quando racconta dei suoi ragazzi. Con loro capita spesso di parlare di padre Puglisi e del bene che ha fatto per i giovani di Brancaccio. Padre Puglisi ha fatto tanto per questo quartiere, era buona figura, semplici sacerdoti, uomo umili. Quando va a visitare il museo per vedere le semplicità, anche quello giorno quando è morto, le scape era bucato, ma ha dato la vita per Brancaccio. Vedere Santo Padre venire qui per questo venticinquesimo di sua morte, io sono contentissima.